E ora il monito della Presidente della Consulta. La Costituzione resta la bussola anche nell'emergenza. Non c'è un diritto speciale per tempi eccezionali, ha detto appunto Marta Cartabia nel consueto bilancio annuale dell'attività della Corte. Allora sentiamo il servizio che è di Sonia Dottavio. La Costituzione è una bussola che ci guida anche nell'emergenza. La prima relazione da Presidente della Corte Costituzionale cade per Marta Cartabia nel mezzo della crisi da coronavirus. Lei stessa è stata contagiata dal virus e poi guarita. E chiarisce la nostra carta, a differenza di altre per scelta, non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza. La Repubblica, sottolinea la Presidente della Consulta, ha attraversato molte situazioni di crisi a partire dalla lotta armata, senza mai sospendere l'ordine e le regole costituzionali. Il testo suona attualissima da luce delle decisioni del Governo sulla crisi presa attraverso decreti del Presidente del Consiglio. Citando il capo dello Stato Mattarella, Cartabia sottolinea la leale collaborazione tra le istituzioni come principio a cui dare particolari attenzioni in questo momento, affinché le energie di tutta la comunità convergano verso un unico condiviso obiettivo. In questi giorni a lanciare l'allarme sulla possibile non costituzionalità di alcuni atti del Governo, erano stati due Presidenti emeriti, Antonio Baldassarre e Sabino Cassese, preoccupati per l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio per limitare libertà costituzionali. Grazie. Grazie.